Nona e conclusiva corsa della giornata Gentleman, miglio per anziani categoria G, premio Cusset, prima fila per Tina May, Vanessa Thor, Shelford Run, Zucchero Jet, Zingaretti Griff, Tuareg Rodi e Coquen de la A, seconda fila per Schubertor, Shodikaze, Veloce Bebbo, Titano M e Violet and Glory, rimane molto arretrato proprio Violet and Glory che ora cerca di recuperare. Partono bene i cavalli al centro dello schieramento, per l'internet c'è Shelford Run che si oppone a Zucchero Jet, poi c'è Tina May con vicino Vanessa Thor, allargo Tuareg Rodi, l'errore per Tina May. E allora Shelford Run che comanda nei confronti di Zucchero Jet, Vanessa Thor, all'esterno Tuareg Rodi, ora sbaglia anche Zingaretti Griff, ha sbagliato anche Coquen de la A, serie di rotture, l'errore anche ora per Schubertor. E allora andiamo a vedere i superstiti dopo 600 metri, tra l'altro molto molto veloci da parte di Shelford Run, io ho addirittura meno di 43 per i 600 iniziali di Shelford Run, dietro il quale sono rimasti come superstiti il numero 4 di Zucchero Jet, a precedere ancora il 2 di Vanessa Thor, e poi il 6 di Tuareg Rodi, sul quale sposta Veloce Bebbo e poi Show di Casei. Zucchero Jet va all'attacco di Shelford Run in anticipo su Veloce Bebbo che però sembra avere un altro passo, sbaglia Zucchero Jet, Veloce Bebbo che con un solo parziale liquida Shelford Run che aveva speso troppo nel primo chilometro, 1-28 e mezzo ai 1.200 con Veloce Bebbo in fuga da Shelford Run che è avvicinato ora da Tuareg Rodi, poi cerca di mettersi in azione Shodi Casei all'esterno di Vanessa Thor, ma Veloce Bebbo è in un'altra dimensione nei confronti di Tuareg Rodi che ha superato Shelford Run, quest'ultimo inseguito da Shodi Casei, nel finale Veloce Bebbo in larghissima evidenza nei confronti di Tuareg Rodi e ancora Shelford Run ma vince come vuole Veloce Bebbo con Luigi Migliaccio davanti a Tuareg Rodi, mentre per il terzo posto Shelford Run pur calando si oppone a Shodi Casei, 1-58 e 8 sul mio cronometro che significa media di 1-14 e 3 per Veloce Bebbo e Luigi Migliaccio, il training è quello di Lucio Becchetti, i colori sono quelli di Luigi Migliaccio. Scuderia del Torraccio, vittoria per larghissima dimensione con Veloce Bebbo che vi dicevo prima della corsa è quello che in categoria oggi ci stava più largo di tutti e infatti ha vinto per larga dimensione dopo aver evitato la bagarre della prima curva, ancora secondo Tuareg Rodi e al terzo posto vediamo che Shelford Run respinge chiaramente Shodi Casei, 10-6-3 l'arrivo ufficioso della nona e ultima corsa dall'ippodromo delle Capannelle. La linea allo studio. La linea allo studio.